È stato fantastico, un'emozione indescrivibile perché dall'inizio della stagione non ero mai riuscito a trovare spazio e farlo dal primo minuto in una partita così delicata, io so quanto i derby siano delicati, è veramente un'emozione unica e sono veramente contentissimo. Ovviamente sapevo che il salto che stavo facendo era un salto veramente grande perché passare dalla primavera alla Serie A è una cosa molto impegnativa, soprattutto ad inizio stagione ho un pochino sofferto i carichi di lavoro e i ritmi. Con i miei compagni di reparto, ma come anche con tutto il resto del gruppo, mi trovo veramente bene. Non mi ricordo a chi lo dicevo, ma vengo agli allenamenti contento di venire. C'è veramente un bel ambiente, si ride, si scherza quando si deve ridere e scherzare, si lavora quando si deve lavorare. Riguardo i miei compagni di reparto, vorrei ringraziarli dal primo all'ultimo perché da inizio stagione mi reputo molto cresciuto, anche sotto l'aspetto mentale proprio e questo lo devo sicuramente a loro, visto che io non avevo nessun tipo di esperienza se non a livello di settore giovanile e pochi mesi in prima squadra l'anno scorso. Quindi loro mi sono stati molto vicino, hanno cercato di aiutarmi sempre e devo dire che quello che c'è anche tra noi giocatori di reparto, che comunque sia ogni settimana ci giochiamo il posto, è veramente una cosa eccezionale perché è una competizione sempre positiva. E mai per sfavorire un altro, sfavorire o favorire se stessi. Un giocatore che mi ha veramente sorpreso da morire nel mio reparto è il Capitano, perché veramente al di là del suo essere professionista, del suo lavorare su ogni minimo dettaglio, mi ha stupito anche veramente proprio a livello di giocatore. Io l'anno scorso ho avuto la fortuna comunque di giocare, di vedere allenarsi gente come Daniele De Rossi o Rajana Ingolan piuttosto che Miralempiani c'è, lui secondo me non è al di sotto di loro. Diciamo che fare la mezzala è il ruolo che prediligo, però nel caso dovesse succedere che servisse un ricambio per il Capitano io sarei pronto anche per fare il mediano, insomma il mister lo sa e valuterà a lui tutte le situazioni, io comunque sia mi metto sempre a disposizione, lo sanno anche per fare il mediano. Con il mister ho un ottimo rapporto, insomma cerco di migliorarmi il più possibile, lui cerca di aiutarmi molto e questa è una cosa che apprezzo molto da parte del mister. Sì, diciamo che inizialmente non me lo aspettavo, poi durante la settimana più e più volte mi ha provato e insomma è successo, sono contentissimo, spero di averlo ripagato nel migliore dei modi.